Ndnews. Nd lo che pota busca, lo che pota busca. Tiene un montante opi substanciale, siccome è da allredredore di noventi e tre milioni di florin, che non c'è da pagare, e sa che sta distribuendo in diversi hotel, e sta montando con una disputa, anterioremente, di fronte del hotel, e c'è un caso di corte, ma ancora non c'è un caso di corte, ma c'è un decisione di corte che il hotel non miro paga. E sa che non so su di, attraverso di IANA, ora che non c'è un masterplan, arriva a mezza, come si chiede a implementare, è sugerenza di invertire un candidato substanciale di promozione, specificamente per il territorio americano, che mi chiede, invece di fare sale e fare un fianco di 40 milioni di dollari, noi stiamo iniziando a guardare qui, con noi stiamo iniziando a collectare, per cominciare con la plana. C'è un quadro che mi ha avuto una declarazione di una donna a ieri, e l'osforza di cui ho avuto un montante substanciale, di cui ho compreso il direttore di CITB, ho avuto un montante di 6 e 8 milioni di florin, che hanno anualmente, se non stanno a fare un anno, come che sa che non stanno a guardare, non si stanno a cobrare il saco, e l'osforza di 3 e 3 di lante, ma 3 di saco di lante, e l'osforza di un riunione di consegno di ministri, e una comandata di ministra di Jardim, che lo stanno a cobrare il compagno di un'opilie.